Nella serata di lunedì 8 giugno, intorno alle 23.45, i carabinieri della sezione radiomobile del dipendente Norm hanno trovato all'interno della sua autovettura un consulente finanziario, 60 anni, deceduto, seduto sul sedile del passeggero, imbavagliato e con le mani legate. L'uomo è stato colpito con 5 colpi di arma da fuoco calibro 6.35 alla tempia sinistra. La vettura, una BMW, era parcheggiata in una traversa serrata di strada comunale da San Vito, a Revigliasco, nell'area colinare del comune di Torino. L'uomo si era allontanato da casa alle 17 di ieri. Sul posto è intervenuto il SIS del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Torino, sezione Investigazioni Scientifiche, per i rilievi. Indagini in corso. Grazie. Grazie. Grazie.